Sì, 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 questo sì. Oggi arrivano 600 tifoli. Sì, stiamo preparando ancora. La prossima settimana c'è la partita delle Coppe. E poi una settimana... Il Bayern. Sì, il Bayern. Bene, partite il comodo. Sì. Abbiamo preso un altro attaccante forte. Sì, le ultime due anni sono, sono. È molto duro e speriamo un po' meglio. Però sono sempre delle cicli che... Come mai sei italiano? Io giocavo un anno alla Reggiana. Alla Reggiana? Io sono di calco io. Siamo vicino. Sì. Ha giocato con Sandro lui? Sì. Ah. Solo un anno poi mi sono infortunato all'occhio contro la Lazio, ho preso un titolo nell'occhio. Sì. Sì. Dovevo... Sì. Dovevo... Ci sono due anni e questo qui è il nostro... 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 Ok? Sì. Bene. Bene. ringrazio tanto anche a lei bene